Eccoci qua, ciao a tutti, fresco fresco di ricord'italiano, sono contento, infatti adesso festeggiamo con una bella vostra bellicola. Allora, reso conto di questi due giorni, iniziamo dai 50 stile, veramente un bel 50 stile, mio migliore già 4 anni in questa parte, abbiamo lavorato sodo sull'estil libero, quindi siamo, perché parlo anche per il mio amatore, molto contenti del risultato. Seconda piazza ha portato punti alla squadra, quindi molto bene. Saftetta è 46-8, credo, un buon 100 stile, ancora in lavorati su, ma comunque bene. Oggi invece avevo i miei adorati 100 misti, una bellissima gara, ci ho lavorato tanto, tutto questo punto di vista, sul dettaglio, sul perfezionamento di vari gesti atletici, quindi oggi è stata l'apoteosi, un 51,64, non mi ricordo i centesimi, che mi soddisfa parecchio, ho anche subito un piccolo problema tecnico prima della partenza, ho un adottore che non sta molto bene, adesso me lo farò vedere nei prossimi giorni, e che dire, mi ha messo nella skin race a Delpino e mi sono soppeso anch'io, un bellissimo cimano Delpino, metti 2,50, ho strappato il record dal buon Thomas Secon, che sicuramente mi risponderà domani o comunque nei prossimi giorni, credo che durerà poco questo record, però intanto me lo godo con qualche montella di bucola. e quindi dai diamo un otto al bomber per oggi, dai, quindi sono contento, appuntamento nelle prossime giornate, ora ci riposiamo un po' perché ne abbiamo bisogno, seguiteci, ciao!